Portarsi alla fine della finestra del vento e fare una curva di 180 gradi, poi accelerare con i pollici tutti indietro, alla fine pollici tutti in avanti per frenare. Accelerare con i pollici tutti indietro, alla fine pollici tutti in avanti per frenare. Questa è la prima manovra che produce un effetto impressionante e mostra cosa può fare un revolution. Vai filma Paolo!